Ha parlato Guerino Spinelli, il presunto omicida di Marco Cervoni, il 35enne ucciso la notte di Capodanno nel quartiere Rancitelli a Pescara, ha deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere e in un interrogatorio durato circa mezz'ora questa mattina si è dichiarato innocente. Al di là della pressione mediatica il mio assistito si è dichiarato innocente perché allo stato attuale non esistono elementi che possano disporre quella che è la riconducibilità del fatto all'autore, esistono solo delle presunzioni, non ci sono accertamenti tecnici ancora esperibili dai quali poter scegliere anche una corretta linea defensionale. Il 29enne, attualmente detenuto nel carcere di San Donato, quella notte si era ritirato nella casa del padre, sempre a Rancitelli, un'abitazione senza luce né gas, ma secondo quanto dichiarato questo non era un tentativo di nascondersi, secondo la difesa Spinelli era andato lì a riposarsi dopo la notte di festeggiamenti. No, lui non si è nascosto, lui è andato a dormire presso l'abitazione del padre del deceduto, voleva andare perché ovviamente aveva sonno, non ha preferito ritornare a casa perché comunque a Capodanno fanno uso di sostanze alcoliche, quindi non era nelle condizioni, voleva stare per i fatti suoi e è andato a dormire presso un'altra abitazione. Perché comunque è un ricovero dove lui si è andato a riposare perché ha preferito dormire là, non creando magari problemi ai bambini perché magari stava in uno stato magari alcolico e quindi non voleva stare a casa sua, voleva andare a dormire in un'altra parte, perfetto di andare a dormire, tanto è vero che è stato trovato con i panni che indossava la notte di Capodanno. E mentre le forze dell'ordine si fanno vanto della velocità con cui hanno preso il sospettato, è curioso il fatto che dopo diversi blitz andati a vuoto, Spinelli non abbia tentato di fuggire, benché molto probabilmente sapeva di avere la polizia alle Calcagna, ma sia rimasto nel cuore del quartiere, in un appartamento intestato al padre, dove prima o poi gli agenti avrebbero sicuramente fatto irruzione. Spetterà gli inquirenti ora verificare chi abbia ucciso Marco Cervoni e se Guerino Spinelli sia stato effettivamente catturato o se si sia costituito.